Ben trovati da Tg della mobilità ultime ore della due giorni del G20 alla nuvola dell'euro ancora in corso importanti modifiche della viabilità con chiusure e deviazioni per il traffico privato e il trasporto pubblico. La situazione dovrebbe tornare alla normalità per le 6 di domani. Primo novembre in particolare all'euro riapriranno domani mattina la stazione della metro di Marconi, Eur Magliana, Eur Palasport, Eur Fermi e Laurentina. I treni terminano la corsa a San Paolo e quelli della ferrovia Romalido non effettuano la fermata a Eur Magliana. Tra la stazione di Laurentina e Magliana è stata attivata un collegamento diretto con la linea 170. Sempre per domani è previsto il ripristino di capolinea di piazzale dell'agricoltura piazza della stazione Fermi e di Viale America. Tutto per questo appuntamento con il Tg della Mobilità.